Quella vittoria che ci voleva che vi mancava da un po' di tempo per mettervi alle spalle un periodo un po' complicato e finire bene in quest'area del season. Sì, finalmente ce lo siamo assolutamente meritato perché comunque davvero ci abbiamo dato tutto in ogni partita e anche nei tempi abbiamo perso sfortunatamente e comunque potevamo fare quel passo in più e stasera finalmente ce l'abbiamo fatta e sono davvero strafelice perché era nostra questa partita e dobbiamo concludere così questo campionato. Avete vinto tanti tie break, segno che quando c'era a tirare fuori la determinazione questa squadra appunto non si tirano dietro. Sì, infatti, ma perché comunque come ho sempre detto siamo un bellissimo gruppo e l'abbiamo dimostrato anche stasera secondo me e finalmente anche nei momenti decisivi abbiamo tirato fuori quella grinta che magari nell'ultima partita c'era un po' mancata e finalmente c'è. Mi ha fatto veramente, sono troppo felice. È normale tracciare un bilancio visto che è finita la regular season? Siete soddisfatte come si su dire il bicchiere come lo vedete? Come commentate questa prima parte di stagione? Eh, questa prima parte come stagione secondo me siamo andate benissimo, magari meglio di quello che ci si aspettava, così ci si aspettavano. Possiamo proseguire in questo modo, adesso ricominceremo con i play-off all'incita verso il 20 di marzo, quindi abbiamo tempo per prepararci al meglio e per ricominciare a bomba. Ecco, adesso un po' di riposo, poi ci sono questi play-off insomma da giocare, con quali prospettivi, con quali obiettivi? Insomma, cosa chiedete di ponete in questo periodo? Beh, sicuramente di cercare di, insomma, passare i turni e cercare di dare il massimo perché, cioè, veramente, ripeto, ce lo meritiamo. e perché siamo un bel gruppo e siamo forti e abbiamo sempre molta grinta, magari anche rispetto alle altre squadre, secondo me, quindi questo.